Ehi raggiù Roma, io sono Mazzetessa e ben ritrovati qui in questo nuovo episodio di Expeditions Rome. Off camera ho fatto che mandare i soldati qua a prendere l'Umber Mill, hanno fatto una piccola battaglia. Ancora si devono ripigliare dai... posso usare le medicine in cambio di soldi? Questo è buono effettivamente, quello è buono. Manderei la legione qua ad attaccare a questo punto, ad attaccare Liopoli. Ci rimane solo più da fare l'Azedio d'Alessandria, per cui parecchio conquistare quest'ultima regione. E quindi potenziare l'accampamento. E nulla. Ah no, ecco, faremo un giretto a Menphi, perché non abbiamo visto Menphi se effettivamente ci sono delle cose interessanti da vedere, da fare. ok. Cavoli, ci hanno buttato giù il cavallo. No, lo scudo più che altro. Mandiamo questo più che altro perché c'ha il Survivor. Dai, proviamo. Allora. Vada con il Protected Flank. Allora. Mi sa che non abbiamo il... più tattiche, perché c'è solo quella torre che ci appare una volta ogni tanto, ma non altre. Se il Divine and Conquer è l'unico che non si fa andare sotto a zero di tutto. Cioè, no, di tutto di qualcosa. Eccala. Siamo sotto di quello. Facciamo così. Allora, dovrebbe recuperarlo e restare a 100. E' morto? The fuck? Oh, mareo. Andiamo con l'85%? Ma invece no. Oh, cavolo. E tra l'altro questo non si è andato a sommare con quel più... Andiamo con l'altro. Andiamo con l'amore. ma la tizia dei gatti non l'ho mica vista dobbiamo andare a vedere adesso sarà da qualche parte nell'accampamento e dobbiamo parlarci non c'è mica fatto caso immagino sia un personaggio giocabile se vengo con voi facciamoci un giro a Manfi dopo averla devastata per vedere se c'è altra roba tipo quella del veleno che ci sta sfuggendo degli oggetti da questo che possono tornare utili allora e l'arborista l'altra volta no ah no vabbè ci dice di uscire qua c'è roba oltre al tempio sentiamo nel tempio vediamo un po' è rimasto comunque tutto il bruciato qua della battaglia ormai in genere non è così il caso ah no non ci fa entrare no non si può entrare vabbè allora in questo caso torniamo giù vediamo qua cosa c'è cosa che ci raccontano no no qua c'è roba sì ma non per lei sì ma non per lei il mio nome è Igida un Kinturio in tua nuova legione no qua non mi ricordo questi persone sono uccidere e uccidere loro sono pericolosi hanno ucciso qualcuno hanno ucciso questa accusazione per favore dei miei uccidere noi stavamo cercando di mantenere l'ordine in la città come legionari è il nostro obiettivo alcune persone resistono e hanno bisogno di essere trattati quindi ha ucciso qualcuno per cioè Mervus non è un ruolo in la città mantenere l'ordine non è per te filtra hai rubato qualcosa noi stavamo costruendo le taxe alcune persone hanno ucciso di pagare abbiamo dovuto fare un esempio che ha detto di quello che prende le tasse è sottointeso che cavolo si dice spiegami cosa è successo il re di Roma? il re di Roma? il re dei consul il consul che è meglio che altri consul? che sta dicendo? non rispondono ancora rispondono al re di Roma sono anche non informati di questo tema chiamato spontaneo quindi la maggior parte le famiglie non hanno pagato in risposta i tuoi uccidrati hanno rispondito a sbagliare alcuni che hanno resistito morti questo è una cosa molto seria fai cosa devi con loro è il tuo diritto e il dovere e ora si cercano di corrompermi non sembro romano ti sei fatto il letto da solo leader ora devi metterci a dormire mi spiace è una scelta difficile questa però ha ragione gli altri non è tollerabile cioè non è che puoi andare a picchiare gente a casa chiedendo delle tasse e rubando soldi così solo perché sia un legionario romano no non è accettabile non lo chiamerei umile ok hai visto dei posti mi dà un alchimista come pericolosi nel senso va bene c'è parecchia richiesta ok altri ottimisti comprono eh sì non c'è nessuna ricetta per fare la roba quindi che tipi di cose alchimiche potessi vendermi giudizio dal tipo di personale che sei qualcosa di pratico magari ho naphtha se sai come sfruttare questo può essere un materiale ok credo che alcuni naphtha sarebbero anche utili a te guardate i miei stock sono abbastanza limiti non è per me di dire come potresti usare potresti trovare migliori altrove ok ci saranno degli sedenti migliori una delle principali ingredienti in grieco il fuoco è un tipo di salto con molte applicazioni uno potrebbe conceivare una sorta di bomba fatta con ok dar fuoco o smoke bomb il tuo amico è learned bene allora mi sento più confidato che non non maimare se io vendi questo utile ma morto va bene dammi della nafta dammi del napoli dammi anche del nitro dove serve questo per fare gli oggetti mi sa ok mi sa che abbiamo speso un sacco di soldi a casa perché forse non li useremo mai ma per quando possono servire e poi lavorare per noi ormai va bene da questa decennete da questo degli sogni ok i migliori momenti vediamo che cosa mi dà in cambio fammi vedere vediamo un po' di medicina no troppo razioni invece quanto per tutti i tuoi soldi 600 razioni benissimo benissimo va bene si è stato un piacere mi ha dato un sacco di soldi ehm credo che siano scesi sotto un po' in razioni ma adesso faremo un paio di altri giri di oh quale c'era credo che bene a per i leoni che si sono scappati dice ah erano là i leoni effettivamente dai si erano qua i leoni c'è altro in questa zona non mi pare no qua c'è il qua c'è il tempio dei gatti cosa c'è roba qua cosa c'è roba dentro il tempio dei gatti ma mi sa che abbiamo visto tutto quello che si potete vedere i gatti non dovrebbero mai sbagliato terapulti è tutto il nostro fault non è i vecchi gatti abbiamo abbandonato non li 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 quando era la prima volta che vi vedi i gatti quando era la prima volta che vi vedi i gatti posso parlare dentro con ma scusami è ancora qua dove faceva le cose e se ne andava ma la raya è rimasta qua comunque a me è in fissa che c'era tutte queste robe so che alcune persone sono morte cosa vuoi che faccia non posso riportarle in vita no i gatti sono scappati va bene dove posso trovarli oddio ci saranno degli indicatori per questi gatti vedete ragazzi questo lo faccio off camera perchè è una vede da questa davvero noiosa ci vediamo pur dura che ti stai alt ci vediamo nel prossimo episodio anche se è un pochettino più corto questo non ha alcun senso attardarci ciao a tutti buona giornata ciao a tutti